Buonasera a tutti e bentornati alla nuova edizione del TG Extraordinario, solo buone notizie. Come tutti sappiamo stiamo attraversando un momento particolare, impegnativo e sfidante. Ma come sempre, oltre alle brutte notizie, ci sono tantissime belle notizie che stanno cadendo intorno a noi. Alleniamo il nostro cervello a ricercare anche le belle notizie. La notizia di oggi è ritrovate 17 specie di piante credute estinte. Dopo un minuzioso lavoro di ricerca condotto su 36 specie di piante entematiche europee classificate come estinte, l'Università di Roma 3 ha scoperto che 17 di esse in realtà non lo erano. Infatti 3 di queste specie sono state riscoperte dopo aver effettuato delle ricerche in campo. Di alcune sono state ritrovate esemplari, vivi, conservati in orti botanici e banchi del germa plasma europei. E invece le altre, le rimanenti, sono state riclassificate come specie diverse sulla base dei nuovi dati. Impariamo a cercare quello che c'è di buono nel mondo. Lo scopo del TG Extraordinario è proprio quello di farti notare che oltre alle brutte notizie ci sono tantissime belle notizie che stanno accadendo intorno a noi. Io cercherò per quanto mi è possibile di comunicarti solo esclusivamente belle notizie perché per tutte le altre notizie ci sono tantissimi TG. Quindi ora non mi resta altro che salutarti e darti appuntamento alla prossima edizione del TG Extraordinario. Sono buone notizie.